Siamo un'altra volta qui, riuniti dopo qualche tempo, per dare inizio forse al corso più bello che abbiamo fatto finora, perché tratta da quello che è la cosa più importante di tutta la nostra vita spirituale, le meraviglie della Santa Messa, ma il sacramento dell'Eucaristia che cos'è? È il proprio Dio. Quanto vale una Messa? La Messa è infinita come Gesù. L'uomo deve tremare, il mondo deve fremmere, il cielo intero deve essere commosso quando sull'altare, tra le mani del sacerdote, appare il Figlio di Dio. Tanto vale la celebrazione della Santa Messa quanto vale la morte di Gesù in croce. Quando il sacerdote celebra la Sacra Liturgia, il rappresenta al vivo Cristo e la Chiesa e deve perciò esprimere la loro gestualità più che la sua. Non è più lui che vive, ma Cristo vive in lui. No. 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 Grazie a tutti.